Omicidio volontario, questa l'accusa ipotizzata nei confronti di Paola Marzenta, la 58enne che martedì pomeriggio a Campolungo di Lonnano, nel comune di Prato Vecchio Stia, ha sparato all'ex marito di Nogori, 64 anni, pensionato ed ex maresciallo dell'aeronautica. La donna, martedì attorno alle 16, ha imbracciato il fucile, è regolarmente detenuto e con un colpo a bruciapelo all'altezza del cuore, ha ucciso sul colpo l'uomo. La donna, che dopo l'omicidio ha chiamato il proprio legale Saverio Agostini, si è successivamente costituita ai carabinieri, avvalendosi tuttavia della facoltà di non rispondere davanti al PM Andrea Claudiani. Per giovedì è prevista l'autopsia sull'uomo. La coppia, che ha un figlio, era separata da 15 anni, i due vivevano però in due casolari attivi. Proprio giovedì, in tribunale ad Arezzo, il giudice avrebbe dovuto pronunciare la sentenza definitiva di divorzio. La donna, un'imprenditrice agricola titolare di un allevamento vino, si trova nel carcere di Sollicciano a Firenze dopo una notte trascorsa in gran parte in caserma a Prato Vecchio. Secondo quanto è emerso, la coppia litigava spesso, ma si aiutava in momenti di difficoltà, ignoti al momento i motivi del gesto.